Al Signore non servono tante parole. Egli sa già quello che hai nel cuore. Sa che desideri il suo perdono. Conosce ogni tuo più piccolo affanno, ogni tribolazione. Tu sei suo figlio, non si dimentica mai di te. Per questo, anche se non sai cosa dire, ma ti metti alla sua presenza in silenzio, Egli ti guarda con profonda tenerezza e ti abbraccia. Non tiene conto delle parole forbite e ricercate, ma ascolta quelle più semplici che provengono dal tuo cuore.